Si stanno preparando per cercare di andare a tagliare la catassa di legno che c'è sulla mia destra nella maniera in cui tirando fuori la legna a pezzi e tagliandola per alleggerire il tappo che si è formato durante l'ultima piena dell'Alda. Adesso stanno facendo un briefing finale per vedere come meglio operare con i vari capisquadra e i vari operatori del taglio. Tutto questo fa parte delle operazioni che noi compiamo sempre a salvaguardia del territorio.